...prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Provano a partire in velocità. Pallone interessante, in verticale. Colpisce il pallone. Ce l'hanno fatta! Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. No. 19, Alexander Isak.